Well, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video guida su Baldur's Gate 3. Oggi parliamo dei poteri Illited, ovvero i poteri dei Mind Flayer. In particolare, questi poteri vanno acquisiti attraverso i parassiti Mind Flayer, che sono dei parassiti che potremo trovare nel corso della nostra avventura in tanti modi diversi. Potremo prenderli dal cadavere di un nemico particolarmente ostico oppure trovarli in giro. In ogni caso, nel momento in cui andremo ad ingurgitare questi parassiti, avremo accesso a dei poteri totalmente nuovi. Ha un albero di abilità strutturato in tre livelli che sono sbloccabili nel corso dei tre atti dell'intera avventura. Queste abilità sono veramente forti, possono cambiare il nostro approccio durante i combattimenti in maniera significativa e darci un grandissimo vantaggio e possono essere acquisiti non solo dal protagonista, ma anche da tutti i personaggi del nostro party. Veniamo ora agli aspetti negativi, ovvero le conseguenze di acquisire questi poteri, chiaramente senza spoiler. In generale possiamo dire che acquisire i poteri dei Man Flayer comporteranno un'evoluzione del nostro rapporto con il custode, ovvero il personaggio che andiamo a creare in fase di editor inizialmente nel gioco. Il rapporto con alcuni companions anch'esso cambierà perché ci sono alcuni companions che non approvano il fatto di prendere appunto questi poteri, altri invece che ne sono affascinati. Più parassiti acquisiremo e più ci trasformeremo, diventeremo degli esseri vicini ai Man Flayer. Una delle conseguenze però più rilevanti dell'acquisire i poteri Illited è il fatto che attraverso questi poteri si sblocca uno dei finali considerato cattivo, brutto. Questo chiaramente per chi vuole un finale rosa e fiori potrebbe non essere il massimo, quindi state attenti, cercate magari di avere parsimonia nel consumo di questi parassiti che vi danno un vantaggio cercando però di non abusarne. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto e vi do appuntamento ad un prossimo video guida su Baldur's Gate 3. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!